Dopo il sì dell'aggiunta all'adozione di aree verdi pubbliche, oggi è stato reso noto il regolamento. Il bando pubblico consentirà ai cittadini, alle associazioni, alle realtà economiche, commerciali e imprenditoriali di adottare le aree e svolgervi anche delle attività a vantaggio della comunità. I comparti destinatari di questi interventi saranno aiuole e aree destinate al verde pubblico, fioriere e aiuole mobili, oltre a rotatorie e sparti traffico. Chiaramente l'obiettivo cardine è quello di favorire la compartecipazione e la cittadinanza attiva e nell'ottica che il patrimonio verde è patrimonio comune. E chiaramente anche per un comune come il nostro che ha un lascito di patrimonio arboreo e del verde alquanto insomma disastrato, porta benefici anche in termini di riscontro economico e quindi di abbattimento di costi. Dal primo momento del nostro insediamento abbiamo sempre detto che uno dei punti focali del futuro della nostra città era il lavoro sul decoro urbano. In questo i cittadini ci hanno ascoltati e sostenuti e soprattutto spesso ci hanno chiesto come poterci dare una mano. Oggi con l'adozione del regolamento e domani con l'espletamento delle pratiche burocratiche, quindi con gli avvisi e con tutto quello che poi gli uffici dovranno fare per appunto consentire l'adozione di questi spazi verdi, noi avviamo un nuovo percorso di sinergia tra la città e l'istituzione.